Preso atto che lei si è resa responsabile di un'aggressione violenta ai danni della signora Cristina Celestini, a partire da ora le è rigorosamente proibito avvicinarsi a meno di cento metri dall'abitazione di sua madre. Sei troppo vicina a casa nostra, giura che non oltrepasserai questa linea. È ridicolo, vado a prendere le mie cose. Non ti avvicinare. No, non puoi farlo. Non sento più del tutto, mi hai reso sorda Marion. Avevo una grande carriera davanti a me e invece è arrivata lei. Che cosa vuoi? Volevo notizia della mamma. Se torni ancora in questo stato non oltrepasserai la porta. Guardate, ecco la sorella di Marion. Non puoi passare la linea. Non ti sapevo ancora qui in giro. Continuo le lezioni di canto con Marion. Le sentite? Il mio primo Natale senza pianoforte. Ciò che avevo di più preziosa al mondo. Ma l'amore è venuto a riempire questo vuoto. All'amore. Sì, esatto, all'amore. Margheretta ci ha fatto dei regali. Mamma ha intenzione di venire. No, non credo. No, non credo.